Ben trovati all'appuntamento con Dentro il consiglio, il settimana che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana e in questo caso qualche volta è accaduto e l'appuntamento è monotematico perché si parla della terza variazione di bilancio 2022-2024 che è stata approvata a maggioranza e sono stati approvati anche una serie di emendamenti. E allora andiamo quindi con l'unico tema di questo nostro incontro con 24 voti a favore e 13 voti contrari, il consiglio regionale ha approvato la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Durante la votazione sono stati approvati una serie di emendamenti presentati dal Presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni con i quali si sono introdotti alcuni contributi rimodulando al contempo gli impegni previsti in precedenza. La terza variazione di bilancio si componeva di due distinti atti, la proposta di legge 154, gli interventi normativi collegati e la proposta di legge 155, la variazione di previsione vera e propria. Ambe due sono state votate a maggioranza. Ascoltiamo il Presidente della Giunta e poi i consiglieri. L'ultima variazione di bilancio consente di inquadrare quello che è stata l'attività economico-finanziaria della regione toscana, il fatto di avere solo tre variazioni di bilancio in un anno da conferma della ottima attività di programmazione che c'era nel bilancio che approvammo alla fine del 2021, il bilancio di previsione 2022. E questo quindi conforta la correttezza, la serietà, la forza dell'azione amministrativa della regione toscana. Questa è una variazione di bilancio che si è rivolta soprattutto al sostegno alle attività culturali, quattro quinti della spesa corrente che è stata prevista è stata per le attività culturali, come sempre l'ultima variazione di bilancio. E devo dire che anche dalla mancanza di rilievi su queste politiche culturali che è venuta in Consiglio ne traggo lo stimolo del ben fatto rispetto a quello che è la politica di sostegno alle biblioteche, ai musei, alle fondazioni liriche, alle fondazioni teatrali che la regione toscana ha messo in campo. Sono altresì convinto che la variazione di bilancio rende molto equilibrato rispetto al territorio il livello degli investimenti che la Toscana e con la parte corrente il sostegno alle istituzioni che gestiscono dal Pucciniano al Carnevale di Viareggio, dal Teatro Comunale di Firenze a quello che sono la rete dei musei toscani, al Pergola che interviene a Firenze come a Ponte Dere e a Peccioli. Insomma, una possibilità di vedere una buona gestione attraverso il sostegno della regione e degli ottimi investimenti, dal teatro di San Giovanni Valdarno a quello di Fogliano della Chiana, al ripristino della correttezza della cinta muraria a Montopulciano. Ha tutta una serie di interventi anche su impianti sportivi. Penso allo stadio di Atletica Empoli, alla capacità a Certaldo di finire con i 500 mila euro della regione un intervento di 7 milioni che ci porta a una piscina che va su tutto il territorio. Io devo dirvi che ho ricevuto un vasto consenso proprio sulla base di questa proposta che mi sembra confortato dalla coesione della maggioranza PD Italia Viva che non ha sgarrato un voto su un emendamento in Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha approvato una variazione di bilancio la cui caratteristica principale è senza dubbio quella della riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento. Oltre 120 milioni in meno di autorizzazione all'indebitamento per l'anno corrente dovuto al fatto che ci sono una serie di spese di investimento che vengono tutte spostate sulle annualità successive. Tuttavia questa manovra presenta alcuni tratti importanti, molte linee di finanziamento che in parte vengono effettuate mediante autorizzazione all'indebitamento e dall'altra mediante strumenti diversi da quelli del ricorso al credito. Tra gli interventi più significativi di questa manovra si registra senza dubbio lo stanziamento di 46 milioni a favore della sanità, a favore delle nostre aziende sanitarie locali e degli enti derivati del sistema sanitario regionale. Si tratta di 10 milioni che vengono assegnati all'ospedale di Cisanello per gli importanti lavori che qui si stanno svolgendo e per il rincaro che c'è stato dei costi dell'energia e delle materie prime, ma dall'altra parte ci sono altri 36 milioni che vengono messi a disposizione delle aziende sanitarie per i servizi sanitari. Questo perché le aziende nel tempo hanno dovuto effettuare una serie di investimenti sull'edilizia che non sono coperti dall'articolo 20 della legge dell'88 e quindi oggi la Regione stanzia in conto capitale 36 milioni allo scopo proprio di permettere investimenti in edilizia sanitaria garantendo però il rispetto dei livelli di servizi sanitari che abbiamo avuto fino a questo momento. Ci sono poi tutta una serie di importanti contributi che vengono dati ai comuni, soprattutto collegati al settore della cultura e a quello dell'edilizia collegata alla cultura, al patrimonio storico e artistico e particolarmente importante è la misura di 12 milioni di euro che la Regione mette a disposizione per la bonifica della falda delle aree Sine e Sir di Massa Carrara. Il rischio di quest'anno che ormai è diventato attuale è quello del definanziamento di queste risorse ministeriali. La Regione pur non avendo responsabilità alcuna in materia decide per responsabilità politica di mettere a disposizione queste somme nell'auspicio che il Ministero della Transizione Ecologica possa poi restituirle alla Regione Toscana. Quindi 12 milioni sono gli investimenti che vengono fatti per la bonifica all'interno di questa manovra. Una manovra importante che cerca di dare risposte a molti settori nei quali si manifesta il governo del nostro territorio e che soprattutto mira a garantire da una parte una sanità efficiente, dall'altra a continuare nel percorso di tutela dell'ambiente del nostro territorio e dall'altra ancora fa molti e seri investimenti nel settore della cultura, nel settore dell'istruzione e della garanzia che si deve dare ai servizi all'infanzia. Stendiamo intanto un velo pietoso e speriamo sia l'ultima volta che lo dobbiamo stendere sulle modalità con le quali la Giunta Gianni pretende che le opposizioni vivano il Consiglio regionale della Toscana. È arrivata una variazione di bilancio che è composta da 49 articoli, diventati ieri sera poi 53. Sono stati consegnati nella sua versione definitiva ai consiglieri ieri alle 15, chiedendoci stamattina di votarli, dopo che c'erano stati concessi otto giorni scarsi per poterli discutere, motivando gli otto giorni con la massima urgenza. In otto giorni non si legge un bilancio, non si legge un bilancio fatto come questo. Questo è un bilancio che ha al suo interno 20 articoli che servono a rimandare al prossimo anno gli investimenti che erano previsti per quest'anno. E sono gli stessi investimenti che l'anno scorso avevamo rimandato a quest'anno e che nel 2020 avevamo rimandato al 2021. E non si parla di opere che non servono alla Toscana, ma si parla di opere che servono come il pane alla nostra regione. Il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca non è una cosa che non serve. La viabilità nelle province di Pistoia, di Prato, di Pisa non è che non serve. Di Lucca non è che non servono. Sono cose fondamentali per la nostra regione e gli investimenti vengono rimandati. Poi ci sono tutta una serie di nuovi interventi puntuali che parlano di ristrutturare un cinema, un teatro, un impianto sportivo in un comune piuttosto che in un altro che necessitavano di un approfondimento di un mese. Perché mi spiegate voi com'è possibile che un'opposizione si esprima sulla ristrutturazione del cinema di San Giovanni Valdarno. Per esprimersi sulla ristrutturazione del cinema di San Giovanni Valdarno, io, se non devo fare un torto a quei cittadini che mi hanno votato, io devo avere la possibilità di confrontarmi con i rappresentanti di Fratelli d'Italia nella zona del Valdarno e capire se l'intervento sul cinema di San Giovanni è fondamentale o se magari, che ne so, il cinema di Montevarchi aveva la stessa necessità o maggiore necessità rispetto a quello. Quindi tutti interventi di questo tipo, non ci vengono concessi i tempi, motivandola con l'urgenza, poi la commissione che deve analizzare il bilancio salta cinque volte perché la maggioranza non è il numero legale, perché i consiglieri di Italia Viva e i consiglieri di minoranza del PD non vengono in commissione e salta. Allora, per studiare il bilancio c'è l'urgenza, per aspettare che il PD e Italia Viva si trovino d'accordo sulla spartizione, non so di cosa, allora si può aspettare anche quattro giorni. Un atto molto importante che te l'avevo ha sostenuto con forza perché in questa misura finanziaria vengono finanziati interventi molto importanti nei territori a partire dal sistema sanitario per arrivare a interventi ormai necessari in molti comuni, riguardano le palestre scolastiche, riguardano impianti sportivi, riguardano teatri, cinema. Il sostegno per esempio ai comuni che devono fare interventi urgenti, pensiamo a quello di Montepulciano sulle mura o altri comuni che necessitavano urgentemente di risorse. La regione toscana si fa trovare pronta nel sostenere le richieste che arrivano dai territori. Italia Viva è stata determinante per portare questo atto in aula, rivendichiamo il nostro ruolo in maggioranza e su questo lo stiamo rivendicando in termini anche politici per attuare dopo due anni di mandato una nuova programmazione che possa rideterminare lo slancio nuovo per quanto riguarda un mondo che è cambiato rispetto alle questioni energetiche, dei rifiuti. Pensiamo al sostegno alle imprese, abbiamo portato un fondo a sostegno di quelle imprese che ancora faticano dopo l'esperienza del Covid e che hanno problemi a pagare le bollette. Siamo soddisfatti di questa manovra di bilancio che abbiamo voluto fortemente essere approvata in queste settimane perché potesse provare e produrre degli effetti fin dai primi mesi del 2023. Mi sono soffermato su alcuni aspetti formali che per noi sono particolarmente rilevanti e che hanno inevitabilmente poi un risvolto anche sul piano politico e istituzionale. In particolare la Lega ha speso molte energie nell'evidenziare che a seguito della variazione di bilancio ci dovesse essere un aggiornamento del DEF, così come è previsto dalla legge 1 del 2015. Noi abbiamo mandato una lettera al Presidente del Consiglio per richiamarlo su questo aspetto e lo abbiamo evidenziato nel corso della Commissione Controllo, aprendo un dibattito su questo e evidenziando anche che lo stesso regolamento del Consiglio regionale e lo Statuto richiamano a più riprese la necessità che ci sia un coordinamento su queste normative. Non abbiamo ricevuto risposta e anzi quando l'abbiamo ricevuta da parte del Dottor Giacomelli che ringrazio comunque, non ci ha soddisfatto perché anche nella stessa risposta che ha dato sia in Commissione Controllo sia nella Commissione numero 1, nella Commissione bilancio dove c'è il collega Casucci, si è evidenziato quanto probabilmente la Lega ha messo il dito su un tema che è un tema significativo. E questo ha inevitabilmente poi anche dei risvolti politici perché le Commissioni non riescono a lavorare al meglio, hanno tempi assolutamente contratti e questo, come ho spiegato in aula, è una limitazione non solo dei diritti delle minoranze ma è un'opportunità persa per tutto il Consiglio regionale perché noi andiamo ad approvare atti estremamente importanti che hanno ricadute sulle tasche, sui soldi dei cittadini quindi cercare di discutirli, approfondirli al meglio è nell'interesse di tutti e non solo delle minoranze. Si conferma l'impressione che la Giunta operi con interventi a spot senza una vera programmazione che porti a una crescita economica della Regione Toscana ma soprattutto non si capisce nemmeno in base a quale ordine di priorità vengono dati questi finanziamenti. In questo caso si tratta soltanto di rimandare ai prossimi anni delle cifre che non sono state ancora utilizzate ma c'è anche delle cose straordinarie ossia stanziare 12 milioni di euro per le bonifiche del SIN-SIR di massa dopo che la Regione è riuscita a perdere i 17,8 milioni di euro sono stati stanziati dal Ministero, dal MITE, a causa di una sua endemica inerzia e non solo sono stati stanziati 10 milioni di euro per l'incremento dei costi dell'energia all'ospedale di Cisanello ma non c'è notizia di tutti gli altri ospedali della Toscana. Stessa cosa per le opere infrastrutturali per le quali è stato previsto un aumento dei costi delle materie prime ma non per tutte quindi viene quasi a mancare un principio di equità per tutte le opere infrastrutturali che sono in programma quindi ora aspetteremo la replica del Presidente Gianni che ci dica che cosa prevede al riguardo. In ogni caso quello che rimane è sostanzialmente un'impressione di grande improvvisazione anche perché eliminare 10 milioni di euro dalle spese del personale vuol dire non essere in grado di fare un'adeguata programmazione perché il costo del personale si sa qual è, c'è uno storico e soprattutto si sa che andrà in pensione. Una variazione di bilancio che naturalmente non si discosta rispetto a quello che è il motivo trainante di due anni di mandato ovvero una totale assenza di programmazione, misure estemporanee misure che sostanzialmente denotano una totale mancanza di visione sul futuro della Toscana non c'è niente per le imprese, non c'è niente per le famiglie non c'è diciamo un ricorso anche all'indebitamento e quindi alla contrazione di mutui che possa giustificarsi nell'ambito di interventi strutturali importanti ecco perché naturalmente su questo noi esprimeremo totalmente un voto contrario rimangono ancora dei capitoli aperti il capitolo del bilancio della sanità ancora non sappiamo esattamente l'entità delle risorse che ci saranno si cerca di scaricare le incertezze sui bilanci, sulle politiche del governo quando in realtà sembra che arriveranno altri fondi c'è ancora aperta la questione delle società partecipate c'è sostanzialmente un caos che naturalmente abbiamo visto esprimersi al massimo anche nella difficoltà in quello che io ho definito quasi uno psicodramma di approvare poi in commissione questa variazione segno evidente che c'è anche naturalmente una crisi politica dietro a questi provvedimenti che naturalmente noi stentiamo a definire manovre finanziarie che non tengono assolutamente conto nemmeno del contesto socio-economico che pure IRPET ha delineato con una certa chiarezza ancora manca diciamo una sostanziale cronoprogramma certo su quello che è l'impiego delle risorse soprattutto del PNRR che anche questa è una voce importante perché si tratta comunque di una spesa pubblica in qualche modo dovrebbe essere destinata ad investimenti duraturi in realtà ciò che appare è che in Toscana si continua ad indebitarsi per fare opere che in realtà poi non tengono conto minimamente di una prospettiva e di un consolidamento futuro anche del nostro patrimonio regionale quindi un giudizio negativo a tutto campo e si conclude così l'appuntamento monotematico con Dentro il Consiglio per tutti gli aggiornamenti e le informazioni vi ricordo il sito www.inconsiglio.it io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto al prossimo appuntamento sempre qua Dentro il Consiglio www.inconsiglio.it www.inconsiglio.it